Adesso tu fai un'imitazione e farai l'imitazione del Cipolla Vero? Aspetta, vai, perché dobbiamo ricreare la situazione Vai, ricreiamo la situazione del Tommy, vai Allora, nel film Natale in India, come stava Cipolla? Scomportissimo, no? Allora, ho messo la barrucca a mezza rasta, da me gli sciattoni Aspetta, immagini, ok, ecco il microfono Adesso, io adesso faccio finire, chiedete informazioni E tu vede rispondo, ok? Faccio finire il verbo Scusi, lo sai? Dov'è il ristorante? La festa Ma non è la coperta La festa E tu vede rispondo, ma non è la Sud E me dice, go get the thunder thunder off your way better than it. Go get the thunder thunder off your skin. Come on, come on, come on. Bravo, bravo! No! No! No, no! Yay!